Massicci, ma ecco perché non volevi, hai fatto tutta questa sceneggiata, una canzone. No, ma io ti giuro non lo sapevo, questo qua è uno scherzetto, l'avete fatto tutto, sono rimasto, è stata la mancarena. Sono rimasti tutti fermi, fermi, c'è qualcuno che muoveva la manina. Senti, facciamo una cosa, facciamo una canzone vera, dai. Facciamo, sì. Quel mazzo di... Sì, sì. Ragazzi. Lo sapete tutti, quando sentirete intonare le note, sicuramente... Allora, mi ci dà una nota. Quel mazzolini di fiori che viene dalla montagna, quel mazzolini di fiori che viene dalla montagna, E guarda me che non si bagna, che lo voglio regalare. E guarda me che non si bagna, che lo voglio regalare. Lo voglio regalare, perché le è un bel mazzolini di fiori che viene dalla montagna, Questa sera quando viene dalla montagna, questa sera quando viene, lo voglio dare il mio amore, questa sera quando viene. Stasera quando viene... Stasera quando viene... Gli fa una brutta cena... E perché è un bel mazzolini di fiori che viene dalla montagna, che non è venuta a me. E perché è un bel mazzolini di fiori che viene dalla montagna, che non è venuta a me. E perché è un bel mazzolini di fiori che viene dalla montagna, che non è venuta a me. E perché mi sono poverina, mi guardiamo la sua oscità. Io volevo ringraziare e chiedere anche scusa perché noi abbiamo giocato e scherzato, però è stato un momento molto bello, vero Lippi? Sì, e fra l'altro un momento che ha una sua ideale prosecuzione molto seria, il 3 di novembre, cioè domenica prossima, all'altare della patria, per la prima volta il capo dello Stato, finalmente, scusatemi questo aggettivo, questo avverbio che forse non devo usare io, consegnerà il tricolore all'esercito, che vale, fino adesso non ne fosse depositario. Esattamente, quindi grazie ovviamente, rimandato un appuntamento. Invitiamo tutti i cittadini a partecipare perché speriamo che con la loro presenza il tutto sia ancora più suggestivo, grazie. Grazie a lei di tutto cuore, grazie a questi splendidi ragazzi. Che dire? Che dire? Viva gli Alpini! E viva l'Italia! Viva l'Italia! Viva l'Italia Unita! Viva Canal 5! Viva Buona Domenica! Soprattutto l'Italia Unita! Torniamo? Adesso c'è... Un breve intervallo! Un breve intervallo e torniamo! Lasso sulla montagna! Viva la confνα! La montagna! Viva l'Italia! Grazie.